dimmi che sei veneto senza dirmi che sei veneto inizio io poi c'è ragione finistrino no no c'è la tecamera madonna che paura vai mona c'è tacca l'aria che vuol caldo ma voi pane e nutella così l'avete mai fatto ma è buonissimo stendete con l'aiuto di un mattarello una fetta di pane cassetta aggiungete nutella coprite con un'altra fetta di pane cassetta e coppate con un coppapasta via l'eccesso con una forchetta sigilliamo bene i bordi sbattiamo le uova e ci tuffiamo il pane lo passiamo nel pan grattato e lo facciamo dorare bene in padella nel burro fuso guarda che bello croccantissimo amore se riesci a tirare fuori il bastone corto ti do questi soldi non quello porca ho proprio sonno e se poi vado a dormire mia mamma non mi sveglia per sovr vabbè glielo vado a dire mamma mamma io vado a dormire per favore non ti dimenticare di svegliarmi per mangiare qualcosa prima dell'alba per favore sennò come faccio a tenere tutto il giorno e se no svegliarti va bene va bene vai a dormire vai a dormire ti sveglio io ti sveglio io tranquillo si 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 vai a dormire tranquillo va bene mamma grazie ok ho ancora tempo per mangiare due minuti questo un minuto finito il tempo basta basta willy 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 dimenticato di svegliare willy 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 se avessi la possibilità di riportare in vita un solo artista chi sarebbe? pazienti nooo cazzo volete riconoscere macchina di albanese? vi dico io se qua non c'è niente di albania di sicuro da qualche altra parte deve essere ecco guarda qua ne sempre mettono gli aquila ue prof amore mio hai corretto le verifiche? si si le ho corrette e e e e e quindi? fate schifo al cazzo oh cazzarola che colpo al cuore luigi tu ovviamente hai preso due ma se mi dedichi una poesia te lo alzo a quattro ah stu cazzo va bene aspe che viene fuori il dante alighieri che in me prof sei bella da paura ti porterei sulla luna ma poi ti guardo in faccia e mi imbarazzo fai veramente schifo al cazzo amore mio ma sei un po etanato dante alighieri ti pulisce il culo dopo aver cagato ah basta basta minchiate luigi perché alla quattro hai messo c? è perché la c già l'avevo messa alla tre quindi è impossibile che c anche alla quattro e chi cazzo te l'ha detto che funziona così? eh vorresti sapere i miei segreti col cazzo? luigi ma perché usi quel matitone? ah luca il secchione perché uso questo matitone grande? perché te lo devi ficcare dritto nel cu bugie, eresie giulia e tu perché alla domanda sette hai messo a? è perché ho fatto la balena senza culo sa contare fino a 21 1 2 3 ma porca putta preside io vi amo cazzo vorrei dire alla mia ex professoressa che mi ha dato sempre del fallito ragazzi che ce l'ho fatta Mike per favore ci sono i clienti alla ricerca ragazzi lavoro in b&b non ce l'ho fatta manco per un cazzo sono diventato povero wow sto filtro ti fa le gambe lunghissime wow bellissimo ma funziona anche per il cazzo signorina mi ha venduto delle luci che non funzionano guardi non si accendono va bene adesso controllo si guardi anche lei si è accorto che ha messo le pile al contrario? ah emm le ho messe a posto ma non funziona lo stesso ecco vedi non è che sono al contrario proprio non funziona adesso ci metto delle mie nuove lei è sicura che queste sono cariche? si se ci mette delle pile cariche funziona secondo me ha smanettato mentre l'ho distratta e l'ha cambiato va io dovrei uscire e beh e che vuoi a me? eh vorrei un po' di eh va bene io si ma vorrei anche la ma la macchina la presti la tua pulo eh va bene la besta ma ma mamma da ci ha detto qualcosa ma dimmi amore mio potrei no e no ma ma come non mi hai nemmeno fatto parlare oggi ti ho pure fatto la spesa effettivamente si ma glielo hai chiesto a tuo padre eh papà mi dice chiede la mamma mamma dice chiede la papà e mettetevi d'accordo no no chiedere soldi a un padre albanese con un ospite speciale Gianfrancesco ehi papà devo un attimo uscire non è che mi dai 5-10 euro con chi esci? o pensavo con Samantha una mia amica le offri eh no non ho soldi che ti devo dire non ti ho educato ad essere gentiluomo io tieni 50 euro aspetta e questo mi lo regali e dici che è la parte di famiglia ok grazie ultima cosa preservativo di chia peering allora babbo nuova challenge smarties oh ok stendi il braccio si no ma guarda ma guarda schifo vai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.